Giorno 445. Le notizie di oggi vengono principalmente dalla direzione di Bakhmut. Gli ukraini sono riusciti a prendere per fame i russi intrappolati nel saliente nel fianco sud e causato il collasso delle difese russe per diversi chilometri in una sola volta. In precedenza abbiamo visto gli ukraini muoversi lungo il canale e spingere via i russi dalle loro posizioni di fronte a Klishivka, mentre quelli nella foresta rimanevano catturati in un accerchiamento operativo. Le forze russe hanno provato a resistere per diversi giorni nella speranza del successo delle operazioni di sblocco da parte della Wagner o dell'avio trasportata. Sfortunatamente per i russi questa operazione è fallita. Video rilasciati di recente mostrano che le forze russe hanno provato a spingere gli ukraini via dalle linee di alberi di fronte ai vanischi per assicurarsi il controllo sui campi e permettere una ritirata in sicurezza. Hanno persino mandato un carro per fornire copertura alle truppe in ritirata, ma è stato distrutto dall'artiglieria mentre si avvicinava. Nel frattempo la situazione per i russi nella foresta peggiorava di minuto in minuto, in quanto l'artiglieria ukraina era riuscita a distruggere diversi rifugi contenenti munizioni. Sembra che i russi abbiano perso le comunicazioni e quando gli ukraini hanno cominciato le loro operazioni d'assalto, i russi non hanno compreso di essere completamente circondati e hanno quindi combattuto fino alla fine. Ieri un combattente ukraino ha riportato che avevano completamente ripulito la foresta. Più tardi fonti russe hanno confermato queste dichiarazioni e aggiunto che due colonnelli erano stati eliminati. Il comandante della quarta brigata di fucilieri motorizzata è il secondo in comando, lasciando quindi l'intera brigata senza alto comando. E' stato riportato che i russi nella foresta avevano quasi completamente esaurito le munizioni, tanto che per difendersi dall'assalto sono riusciti a sparare solo 12 colpi di mortaio. Inoltre i soldati sul campo hanno notato una diminuzione nel fuoco d'artiglieria, ipotizzando che sia stato a causa degli attacchi Imars che hanno distrutto l'artiglieria nella regione. Quindi ora i russi ne hanno abbastanza solo per mantenere bombardamenti intensi a Bakhmut e Chazivyar. Il vice ministro della difesa ukraino ha riportato ieri che gli ukraini hanno stabilito controllo su più di 10 posizioni russe intorno a Bakhmut. Il corrente posizionamento indica che gli ukraini sono ora pronti ad attaccare Klishivka. Infatti le preparazioni d'artiglieria sono già iniziate. Video recenti mostrano un drone individuare tre camion che portano rinforzi a Klishivka, rinforzi poi distrutti dall'artiglieria ukraina insieme a un deposito di munizioni. Un altro video mostra l'individuazione di una seconda ondata di rinforzi durante la notte, che è stata prontamente bombardata appena scesa dai veicoli. Il capo della Wagner Prigojin ha recentemente rilasciato un video dove spiega il perché delle menzogne rilasciate dal ministero della difesa russo riguardante la stabilità della situazione. Secondo lui il ministero si concentra sugli insediamenti invece del posizionamento tattico, e in molti casi in Ukraina gli insediamenti si trovano sulle pianure rendendoli relativamente inutili. Quindi per esempio anche se il ministero riporta che gli ukraini hanno fallito nel prendere Berkivka, in realtà hanno preso le posizioni tattiche sulle alture. La stessa cosa sta succedendo nel fianco sud. Gli ukraini si stanno muovendo lungo il crinale che va da Chasiviar a Kordio Mifka, e hanno già stabilito il controllo sulla foresta e sulle colline intorno alla foresta e a est del canale, mettendosi in posizione per attaccare le due fortificazioni che proteggono Klishifka. Se questo attacco dovesse aver successo, gli ukraini controllerebbero un'enorme piattaforma dalla quale poter lanciare attacchi e isolare Bakhmut da sud. È inoltre probabile che apriranno una linea di attacco di supporto verso Kordio Mifka per bloccare le truppe russe mentre loro si muovono verso Zaitseve e Vesele. Se siete contro l'invasione dell'Ukraine e volete supportare il nostro lavoro, potete fare acquisti nel nostro negozio ufficiale. Qui potete trovare numerosi prodotti riportanti simboli ukraini per mostrare il vostro supporto al canale e per l'Ukraine. Potete trovare il link in descrizione. Grazie per l'ascolto, anche per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video.